Il 17 dicembre 2013 siamo qui a Torra Argentina in compagnia di Massimiliano Iervolino. Questa è un'intervista che vedrete, è stata registrata oggi che è martedì, vedrete poi i venerdì appunto nelle consuete trasmissioni del venerdì sera di LibriTV e con Massimiliano Iervolino parliamo praticamente di rifiuti nel Lazio. Massimiliano Iervolino è un esperto, si occupa di questo da parecchio tempo nell'ambito radicale, è stato anche credo nell'ambito diciamo del gruppo della regione Lazio nella scorsa consigliatura regionale e partiamo un pochino dalla dichiarazione sua comparsa appunto qualche giorno fa relativa appunto a un patto che era stato sottoscritto tra l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini e il Goffredo Sottile che era il commissario straordinario se non sbaglio in cui si parlava, ecco un ministro straordinario per i rifiuti, in cui si parlava appunto di una previsione di una raccolta differenziata che doveva arrivare al 65% entro il 2016. Ecco, proprio concludendo quanto tu dici, ti faccio concludere a te perché così magari lo dici meglio, pare che però questi accordi non verranno rispettati. Sì, innanzitutto grazie dell'intervista, rispetto alla dichiarazione di cui tu facevi riferimento agosto 2012, ricordiamo tutti perché fu dato molto spazio sui giornali locali di questa notizia, fu firmato questo patto per Roma dal ministro Clini, dal commissario per l'emergenza dei rifiuti di Roma, Goffredo Sottile, dal comune di Roma, nell'allora sindaco Gianni Alemanno, dal presidente della provincia che allora era Nicola Zingaretti e dal presidente della regione della scorsa consigliatura Renata Polverini. Questo patto, oltre alle tante questioni impiantistiche di cui si occupava questo accordo, parlava anche delle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere negli anni per far uscire Roma dall'emergenza e per indirizzarla verso un ciclo virtuoso di rifiuti rispettoso delle direttive europee e delle leggi nazionali. Hai detto bene tu, questo patto prevedeva e prevede tutt'oggi il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2016. Ora che cosa è accaduto? È accaduto che l'altro giorno Nicola Zingaretti, presidente attuale della regione Lazio, l'assessore ai rifiuti Michele Civita ed altri personaggi hanno presentato le linee guida del prossimo piano dei rifiuti della regione Lazio. In queste linee guida c'è scritto chiaramente che l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata da raggiungere nella regione Lazio, però non dimentichiamo che Roma produce il 55% di rifiuti di tutta la regione Lazio, quindi se si fisso un obiettivo del 65% da raggiungere entro il 2020 per la regione Lazio va da sé che quell'obiettivo è anche per Roma, perché come ho detto prima produce il 55% dei rifiuti. E quindi che cosa si è fatto? Si è posticipato questo obiettivo che è un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto proprio perché permetterebbe prima possibile di far uscire Roma da questa emergenza. Emergenza che oggi è stata risolta tra virgolette importando il cosiddetto modello Napoli, perché se oggi non vediamo i rifiuti per strada a Roma è solo perché l'AMA e la Colari che è la società e il consorzio di Malle Ocerroni portano fuori regione i rifiuti, perché da quando è stata chiusa Malagrotta, quindi dal 1 ottobre del 2013, i rifiuti di Roma vanno quasi totalmente fuori regione e abbiamo e continuiamo ad avere difficoltà per quanto riguarda l'impiantistica sia per la raccolta indifferenziata che per la raccolta differenziata. Faccio un esempio, noi quando puntiamo alla raccolta differenziata e diciamo che dobbiamo fare la raccolta differenziata è perché da quella raccolta differenziata si devono recuperare dei materiali sia nella parte umida, quindi nel compost, sia nella parte secca e quindi per le materie prime e seconde. Ora nel momento in cui si recuperano quelle materie si guadagna perché tu vendi quel materiale al Conai e quindi ti entrano come comune, come AMA dei soldi. Però se tu non hai degli impianti per trattare questa raccolta differenziata, invece di guadagnare 100, visto che non hai gli impianti e devi portare questa raccolta differenziata alla lavorazione a dei privati fuori città e in molti casi fuori regione guadagni 60 e quindi diventa un gioco a perdere. Perfetto, quindi in qualche modo abbiamo una fonte di possibile energia, comunque sia di un ritorno economico che non riusciamo a trasformare e quindi invece trasformano altrove con i costi di trasporto. Senti Massimiliano, ovviamente sappiamo che Managrotta ha chiuso tanto per cambiare anche e soprattutto forse per interessamenti dell'Europa perché insomma ormai era una cosa non più accettabile e uno dei tanti casi in cui l'Italia cerca, prova a mettersi in linea grazie appunto a interessamenti tra virgolette esterni della comunità europea. Però pare che ovviamente era anche in qualche modo una pronuncia un po' contro il sistema di smaltimento in discarica. Il fatto appunto che non siamo attrezzati come tu ci hai detto alla trasformazione fa un pochino sorgere o meglio fa confermare un po' questo sistema delle discariche però delocalizzato in altre discariche nel Lazio che dovrebbero servire anche a Roma quindi con ovviamente impatti ambientali, impatti anche ovviamente sulle comunità che abitano che ovviamente non sono contente. Poi dopo parleremo anche della questione dei Monti dell'Ortaccio. Ecco quali sono queste discariche, questi luoghi che rischiano appunto di vedersi arrivare in quota la Mondessa di Roma? Questa domanda mi dà un modo di spiegare bene quello che è successo prima su Malagrotta e poi quello che sta accadendo sulle altre discariche del Lazio. La discarica di Malagrotta è stata chiusa per una forte pressione da parte della comunità europea che nel giugno del 2011 ha aperto una procedura di infrazione. Questa procedura di infrazione si è trasformata in un deferimento alla Corte di Giustizia europea. Ora che cosa è accaduto? Però su questo i giornali non dicono una parola. È accaduto che la Commissione europea si è accorta che lo sversamento illegale di tal quale non riguardava solo Malagrotta ma riguardava tutte le discariche della provincia di Roma e della provincia di Latina. Questo come Associazione Radicali Roma lo abbiamo dimostrato con delle foto montate su un video che abbiamo inviato proprio alla Commissione che l'altro giorno ci ha risposto per dire che lo sversamento illegale contrario alla direttiva discariche del 1999 non riguarda solo Malagrotta ma riguarda anche altre discariche. È bene precisarlo questo perché purtroppo questo discorso è andato avanti solo su Malagrotta. Sugli altri discariche si fa finta di nulla. Perché questo è bene precisarlo è bene farla come premessa perché quello che hanno intenzione di fare le istituzioni è proprio quello che dici tu cioè allargare le discariche esistenti e ti faccio l'esempio di quella di Cupinoro a Bracciano oppure quella di Falcognana a Roma oppure altre discariche per smaltire parte dei rifiuti rifiuti di Roma e questo è un qualcosa è un qualcosa che sicuramente fa paura alle alle popolazioni alle popolazioni dei territori perché qui non parliamo di un sistema in grado di smaltire solo una parte residuale dei rifiuti ma parliamo di un sistema ancora malato che smaltisce la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti a Roma in discarica con l'aggravante che questi rifiuti in parte ancora non vengono in parte ancora vengono non vengono trattati è giusto dire però che attualmente la situazione delle discariche del Lazio come ho detto prima che ancora oggi non ricevono i rifiuti di Roma comunque è una situazione assolutamente allarmante su cui la corte di giustizia europea nei prossimi mesi sarà chiamata a decidere se condannare l'Italia proprio per questo metodo di smaltimento illegale. Perfetto molto chiaro Massimiliano una cosa che volevo chiederti anche come cittadino e come utente il prezzo di questa inefficienza il prezzo in termini tariffari come cambia adesso appunto che non c'è Malagrotta quindi non ci sta il sito vicino nel comune ma bisogna andare fuori aumenta e se aumenta aumenta un prezzo con un'efficienza ancora minore del servizio perché poi sempre di discarica si tratta e si deve portare fuori. Il problema è che noi abbiamo vissuto col sistema Malagrotta e in quegli anni in cui è vissuta Malagrotta non abbiamo fatto nulla sull'impiantistica e nulla sulla raccolta differenziata e questa questione ce la portiamo indietro anche se Malagrotta è chiusa perché noi pagheremo molto probabilmente una tassa di rifiuti maggiorata perché oggi Lama ha delle spese molto maggiori rispetto a quello che aveva prima. Primo perché i rifiuti vanno all'estero e vanno fuori regione e quindi hai una tariffa maggiore si parla di circa 120-130 euro a tonnellata per portare fuori i rifiuti quando la tariffa d'ingresso di una tonnellata trattata di rifiuto a Malagrotta era di circa 99 euro. Poi c'è il problema che visto che non hai aumentato di molto la raccolta differenziata comunque c'hai molto indifferenziato che prima non veniva trattato ora invece lo devi trattare altrimenti non puoi portare fuori regione i rifiuti e quindi se non vengono accettati allora prima cosa va detto che se tu vuoi esportare fuori regione i rifiuti tal quali c'è bisogno di un accordo tra la regione che manda i rifiuti e la regione che li riceve nel momento in cui tu invece esporti rifiuti trattati che diventano rifiuti speciali l'accordo non va affatto tra le regioni ma tra le aziende, tra l'azienda che manda e tra l'azienda che riceve c'è questa differenza che non è da poco e quindi come dicevo c'è un maggior costo perché a raccolta differenziata invariata tu hai comunque degli impianti di trattamento meccanico biologico che devono lavorare molto e quindi quelli privati sono soldi poi in più come ti ho detto prima c'è il problema della raccolta differenziata cioè dei materiali che devono essere lavorati da raccolta differenziata che purtroppo non puoi lavorare nei tuoi impianti perché o non esistono o perché sono fermi allora devi darli ai privati e i privati comunque sono un costo e quindi questo sistema malato che non è altro che una conseguenza di 35 anni di malagrotta e una conseguenza di almeno 15 anni di non rispetto delle reggi da parte di questo centro-sinistra e questo centro-destra che hanno governato a Regione Lazio e il Comune di Roma molto probabilmente lo pagheranno i cittadini o vedremo il prossimo bilancio dell'AMA per capire quanto sono aumentati i costi Senti Massimiliano, un'altra cosa che volevo chiederti io ho letto un po' qui e là che a Roma ci sono tentativi di esperimenti di differenziate porta a porta, raccolte a orari adesso non ho bene capito se sono divise per municipi o che però non mi sembra che abbiano successo allora è quello che ti volevo chiedere hai capito premesso che siamo così in ritardo per cui anche in qualche modo i cittadini probabilmente non sono stati informati adesso non vorrei dire educati però insomma instradati verso però qual è proprio l'ostacolo maggiore hanno una parte anche proprio quello che siamo noi cittadini il nostro comportamento oppure è proprio una questione di organizzazione da parte appunto dell'AMA o di chi per lei di inefficienza io credo che sia una questione sia di organizzazione da parte dell'AMA che comunque ha dei suoi limiti anche perché questo tipo di servizio non lo ha mai fatto se non in alcuni pochi quartieri come quello di Burtino Terzo ed altri quartieri che storicamente hanno quello di Massimina dove storicamente si è iniziata la raccolta differenziata da tanti anni si 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 riesce a sportare ma comunque ci vuole comunque ci vuole un po' ci vuole un po' di tempo sia per garantire ai cittadini quella giusta informazione di cui tu parlavi però c'è anche il problema che è questo parlo per quanto riguarda la raccolta indifferenziata dove si vedono nella città comunque di cassonetti stracolmi che abbiamo un sistema molto fragile perché tu quando porti rifiuti fuori regione basta un niente per far saltare per far saltare tutta la catena quindi basta uno sciopero basta un'assemblea basta qualsiasi cosa per far saltare un sistema che è assolutamente fragile per quanto riguarda la differenziata e quindi per continuare a rispondere alla tua domanda è normale che anche lì c'è un problema a valle cioè nel momento in cui tu fai tutta quella raccolta differenziata può essere pure io questo non lo so di preciso può essere pure che c'è a valle un problema di trasporto rispetto a quei famosi impianti di cui ti parlavo che non stanno a Roma ma stanno fuori ti faccio un esempio noi a Roma abbiamo sempre detto e gli attori istituzionali hanno sempre detto che la raccolta differenziata è più importante quella dell'umido perché questo? perché l'umido se non viene raccolto in maniera differenziata ma viene raccolto in maniera indifferenziata e qualora non venisse trattato dall'indifferenziato avremmo il problema del tal quale in discarica e quindi del percolato e dell'inquinamento eccetera eccetera e quindi si è sempre puntato prima di tutto alla raccolta differenziata dell'umido più che del secco ma noi non abbiamo un impianto che tratta l'umido per formare il compost ne abbiamo uno a Maccarese che è fermo non so da quanti anni e quindi tutto quell'umido che viene raccolto in maniera differenziata nei quartieri di cui tu parlavi viene esportato e quindi quello può essere sicuramente un problema ed è un problema perciò io voglio risottolineare che noi l'esperienza e le cause della discarica di Malagrotta ancora ce le portiamo indietro perché gli impianti per gestire i rifiuti non basta fare la raccolta differenziata per uscire dall'emergenza perché se fare la raccolta differenziata non c'è l'impiantistica necessaria per trasformare quella raccolta differenziata in materie prime e seconde non vale nulla la raccolta differenziata ho capito che abbiamo una specie di maladizione possiamo chiamarla così senti Passimiano volevo parlarti adesso di una vicenda che leggendo il Libri TV se ne era occupata e riguardava un sito su cui era stato individuato appunto un'ipotesi di nuovo impianto di discarica è che sono i Monti dell'Ortaccio molto vicino a Malagrotta sono poche centinaia di metri abbiamo parlato con alcuni abitanti abbiamo insomma siamo andati a casa loro abbiamo visto che insomma lì peraltro lamentano anche un'incidenza di certe patologie più alte rispetto ad altri poi è una zona agricola e quindi c'è il problema di acque di canali che con cui poi si irriga ci sta peraltro già una zona già una zona massacrata perché ci sono depositi di carburanti cave c'è Malagrotta ovviamente eccetera allora la decisione pare appunto per l'apertura lì del del sito è subiudice cioè il Tar domani deciderà se praticamente dare il via all'apertura di questo di questo impianto o meno ecco tu pensi che ci sia veramente un pericolo che si apra e sarebbe veramente incredibile per le comunità che abitano lì che si trovino veramente diciamo in qualche modo mortificati i loro diritti anche a una salubrità minima a un livello minimo di salubrità con un nuovo impianto di discarica no io spero di no perché come hai detto giustamente tu quella è una zona massacrata perché ricordiamo che parliamo della zona della Valle Galeria quindi oltre alla discarica di Malagrotta che ha vissuto lì per 35 anni e che ha smaltito circa 40 milioni di tonnellate di rifiuti parliamo di 40 milioni di tonnellate di rifiuti quindi di una cosa enorme con l'aggravante che la maggior parte di questi erano tutti tal quale quindi inquinamento eccetera eccetera in più ci sono in più ci sono due impianti di trattamento meccanico e biologico c'è una linea di gassificazione da quello che si evince dalle dichiarazioni di Zingaretti e dell'assessore Civita verrà non solo riaccesa ma verrà fatta una seconda linea verrà raddoppiata poi c'è una raffineria che dicono che è chiusa però comunque ci continuano ad essere dei depositi c'è un inceneritore di rifiuti ospedalieri dell'AMA su cui ci sono dei misteri incredibili nel senso che su internet non c'è nessun dato né su che si brucia lì dentro né sulle missioni né su nulla quindi quindi è una zona già massacrata e lo confermano gli studi dell'ISPRA lo studio epidemiologico dell'ASL Romei che sono stati c'è l'aeroporto non distante quindi Monti dell'Ortaccio che è questa distesa enorme e questa cava già quasi pronta che sta lì è qualcosa che va assolutamente scongiurato perché se entrano lì dentro stanno lì per i prossimi 50 anni perché è qualcosa di enorme in più va ribatito che quella che è una zona gli ha già dato che assolutamente non può ritornare ad essere la zona della discarica di Roma Bene Massimino ma siamo in conclusione io volevo da te che sei esperto della materia un conforto perché la situazione è abbastanza sconfortante ma secondo te quali sono diciamo all'attuale stato quali sono le autorità che più potrebbero trovare il bandolo non so se qualche sindaci o consiglieri non credo consiglieri ma presidente di regione o che chi è che potrebbe veramente con una scintilla diciamo che lo illumini riuscire potrebbe riuscire a trovare il bandolo di questa matassa oppure come per tante cose ci sono delle responsabilità così diffuse che poi alla fine bisognerebbe mettere insieme d'accordo tante di quelle persone per cui si perde tutto quanto come un come un fiume nel deserto Ma come ho detto prima la situazione è molto complicata perché ci portiamo indietro un'eredità enorme dove si è solo pensato a buttare tutti in discarica e non si è fatto nulla sul sull'intero ciclo per quanto riguarda chi può risolvere questa questione io spero che l'amministrazione marino e l'assessore Stella Marino all'ambiente possano veramente intervenire il sindaco ha un'autorità su questo e anche la regione programma certo la regione programma poi chi amministra è comunque il sindaco marino è nella persona dell'assessore all'ambiente Stella Marino che poi so che si sta cercando sta cercando delle soluzioni vedremo nei prossimi mesi se queste soluzioni saranno in grado di farci uscire da questa perenne emergenza fino ad oggi risolta solo o con Malagrotta o con il metodo eh di portare i rifiuti fuori regione Perfetto allora ringrazio Massimino Iervolino grazie perci dato queste lucidazioni importanti di tutto il pubblico di LibriTV e di nuovo grazie e auguri grazie